buongiorno buongiorno oggi è giovedì 4 ottobre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione sarà una giornata insegna ancora una volta del cielo sereno temperature massime oltre i 20 gradi nei principali centri abitati della provincia di bolzano e della provincia di trento in regia questa mattina abbiamo massimo moro con il suo aiuto andiamo a vedere quello che accade intorno alle 6 e 30 di questa mattina nella zona di passo gardena guardate una suggestiva alba complici alcune nuvole innocue in transito ad alta quota come detto poi attesa una giornata di sole splendente la conferma ci arriva dalla grafica sia per quanto riguarda la provincia di bolzano 23 gradi nel capoluogo così come anche a merano 22 gradi a bressanone 21 gradi a brunico e silandro 20 gradi a vipiteno ci spostiamo in provincia di trento anche qui assenza totale di nuvole 25 gradi a trento città 25 gradi anche a riva del garda 19 gradi a pinzolo e a malè così come anche a cavalese 18 gradi a moina 20 gradi a fiera di primiero andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola l'alto adige rotatoria mortale si cambia il comune corre ai ripari in piazza vittoria per renderla più sicura le biciclette ci sono problemi di abbandono scolastico prima superiore uno studente su due fermato a giugno allarme a bolzano per la dispersione scolastica il corriere dell'alto adige identica apertura le contromisure dopo la tragedia che si è consumata in piazza vittoria guerra ai camion da parte dei comitati il sindaco dice io non ho la bacchetta magica i cantieri in città sono fondamentali dolomiti capriolo albino aberrazione genetica esemplare rarissimo fotografato in provincia di belluno la cronaca cura del quotidiano trentino punti nascita scontro sui voti il ministro grillo esulta fugatti sventisce zeni frena piscina occupata dalle società sportive e polemica accade alle fogazzaro soprattutto nei pomeriggi il quotidiano l'adige punti nascita e scontro identica apertura quindi riapre cavalese dicono il movimento 5 stelle fugatti dice non decidete voi e poi pallavolo presentazione show per la nuova itas sabato intanto supercoppa la cronaca in lingua tresca per tornare in provincia di bolzano con il quotidiano dolomiten la corte dei conti ha presentato la richiesta di risarcimento si parla di 3 milioni a carico dei componenti della vecchia giunta provinciale il periodo considerato è dal 1999 al 2009 ancora un assalto al bancomat siamo a vandoies ingenti danni la cassaforte ha resistito inquirenti ovviamente al lavoro il quotidiano tag est site un il tema è quello della prevenzione soprattutto quando si parla di tumore al seno la testimonianza di una donna di 48 anni della valpusteria i medici gli hanno diagnosticato tre tumori è riuscita a vincere la sua battaglia sempre per la cronaca linguatresca oggi giovedì troviamo in edicola il settimanale ff l'apertura e l'approfondimento interno dedicato ai due uomini di spicco della stella alpina cioè il presidente anno compaccia il segretario philippo a hammer il rapporto all'interno del partito quali sono le prospettive e soprattutto quali sono le strategie in vista delle elezioni andiamo a livello nazionale e internazionale il corriere della sera corsa tre per il commissario di genova la protesta dei cittadini la pazienza adesso è finita la manovra economica tanto contestata movimento 5 stelle lega duello sulle cifre 10 miliardi al reddito no alle pensioni poi spuntano altri 4 miliardi sempre per la cronaca troviamo in edicola anche l'inserto il settimanale 7 approfondimento dedicato a samanta cristoforetti sappiamo l'astronauta che ha studiato ed è cresciuta in provincia di parla della conquista alla luna parla delle sue nuove ambizioni parla anche della sua vita privata il sole 24 ore reddito da aprile pensioni subito pagano le banche si parla di reddito di inclusione e poi def al traguardo deficit al 2 4 per cento poi una discesa programmata a iniziare già dal 2021 ottime notizie per l'industria italiana quando si parla di tecnologie massimi livelli nel 2018 record di vendite dei robot in italia con un più 13,6 per cento macchine utensili italiane protagoniste alla rassegna rassegna biennale di fiera milano è tutto in chiusura agli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano ok su ghiaccio protagonista il 5 di ottobre con i biancorossi che attendono il vienna sul ghiaccio le pala onda il 6 di ottobre due appuntamenti sportler vertica la bolzano e il diciassettesimo appuntamento con il brass festival internazionale al curs al di merano il 7 di ottobre il calcio con il sutirol che attende l'albinolefe e dal 12 al 14 di ottobre casterrutter spazzen festa casterrotto in chiusura due notizie delle ultime ore lunga coda di mezzi pesanti lungo l'autostrada del brennero in direzione nord tra chiusa il valico di confine causa una festività di ieri in territorio austriaco e poi incidente stradale questa mattina intorno alle 6 e 40 a ponte druso a bolzano sul posto anche vigili del fuoco è tutto grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 l'informazione di video 34 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 l'informazione di video 34